Il trono di spada è vuoto, illuminato soltanto da un febbre raggio di luce. Re Viserne, il pacifico, è morto. E con lui è finita il sottile filo con lui e le famiglie, Targaryen, The Tower, Valerion. Ora recisa e pronto a sbranciare un mondo tenuto in fragile equilibrio, a complicare le cose e le ultime parole rivolte dal re in punti morta dalla sua regina. Parole mal interpretate, che danno forza alla pretesa del trono di The Tower, spingolando la prima scintilla di una guerra interna che è nell'aria da troppo tempo, una scintilla ormai ponte ad esplodere. Io sono Darle, benvenuto nel mio canale. Parleremo della serie di televisione House of the Dragon dell'episodio 1x09, intitolato Il Concilio dei Verti. Il problema di quest'episodio qual è? E ci sono alcune incoerenze che poi le diremo alla fine. La dama di compagnia, Talia, va ad avvertire la regina della morte del re, subito la regina Elisabeth Tower avverte il padre e fanno un concilio rispetto straordinario. Subito l'arroganza di Talan Lannister si fa vedere, dice come mai a quest'ora e subito Otto dice il re è morto. Soprattutto dice le parole dette dal re alla regina, cioè di Egon il conquistatore, che Egon si doveva sedere sul trono. Parole mal interpretate da Elisabeth, però possiamo dare una male perché lei non sapeva la storia di Egon il conquistatore, il sogno di Egon il conquistatore. Reviseli pensava che era Renira accanto a lui e gli stava dicendo, stava raccontando la storia di Egon il conquistatore, il suo sogno. Per quale motivo lui aveva conquistato i sette regni e per quale motivo che un Targan doveva essere seduto sul trono di spade. Ma con grande stupore la regina Elisabeth scopre che suo padre Otto e alcuni membri del concilio distretto avevano già da anni, stavano preparando il colpo di stato contro la regina, cioè alla morte dei re, alla morte del re erano pronti a fare un colpo di stato. La morte di un re non si piange, ma si sfrutta. E questo è quello che Otto vuole fare. Cioè non piangiamo il re, sfruttiamo la sua morte per i nostri piani. Già erano d'accordo con lui Tyler Lannister, maestro della flotta, e Verga di Ferro, maestro delle leggi. Eppure il gran maestro, o anche il gran maestro, era d'accordo con loro di sostituire Rhaenyra con il giovane Egon come re. Un complotto che è l'unica cosa che doveva aspettare la morte di re Visenio. E questo è dal primo dubbio. Re Visenio è diventato in questo modo, perché tra i confruttisti c'era anche il gran maestro che lo curava, che volevano che Egon sedesse sul trono a posto di Rhaenyra. Ora viene il dubbio. Se Re Visenio fosse stato avvelenato con gli anni, è per preparare questo famoso colpo di stato. Cosa? L'unico non d'accordo in questo colpo di stato è il Lord Liaren Beresh. Ciò che dice è che lui conosceva più di tutti loro, re Visenio. Il re Visenio non avrebbe mai rinnegato il trono a sua figlia. Per lei la sua erede era la principessa Rhaenyra. Cosa che lui non crede neanche che il re Visenio avrebbe detto quelle parole alla fine. E l'unico che dice la verità, l'unico che forse davvero conosce il re Visenio era Lord Limon Beresh e soprattutto dice che stava quasi per colpare la regina che è stata la regina a uccidere il re. A questo punto ti viene Sir Criston Colt che uccide con Lord Limon è del primo sangue versato per la danza del drago. Il primo sangue versato nella danza del drago della rivolta è quello di Lord Limon Beresh. A questo punto il capo della Guardia Reale, il comandante della Guardia Reale, Sir Aaron Westeran punta l'arma contro Sir Criston e lui dice che si deve togliere il velo bianco, la cappa dorata e la deve lasciare per alto tradimento e ma lui dice che lui è fede alla regina e se il Lord Limon ha offeso la regina. Subito Elisen dice apposate le armi che non è successo niente. Il Lord comandante posa la spada e un Sir Criston sempre più arrogante ormai è una marionetta. Sir Criston Colt è un cagnolino, è un uomo senza palle, senza dignità, senza niente. È un povero, una povera lago, un sanguisuga. In questo momento Sir Criston Colt è un sanguisuga. Allora Otto comincia a parlare che devono andare a Roccio del Drago a far arrestare Rhaenyra o ucciderla se non si sottomette a Aegon secondo il suo nome. Tutto questo era pronto anche a fare una guerra, per anticipare andare a Roccio del Drago, essendo che Daemon e Rhaenyra non si aspettavano la morte di Re Viseri, soprattutto non erano pronti a questo colpo di stato. Perché io dico, una cosa deve essere davvero Daemon che si è dimostrato un grande combattente, Rhaenyra che si è dimostrata una persona audace, non mettevi qualche spia, qualche tua spia ad approdo del Re, qualche tua spia nel Castello Rosso, nella Torre Rossa, per spiare, per avere informazioni. No, che aspettavi? Se tu sapevi che i Tatawer erano pronti a fare un colpo di stato, a prendere il tuo trono, non mettevi nessuno e questo è il primo punto di domanda, come mai Daemon e Rhaenyra non hanno messo nessuna spia al loro seguito ad approdo del Re. Eliseth a questo punto dice che non è quello che lei vuole, non è che Re Viseri non voleva la morte di sua figlia. E Verga di ferro sorride e Eliseth dice se continua a sorridere ti faccio prendere e ti mando alla barriera. E zitto come un cane maestro delle leggi e sta zitto. Tyler Leibniz dice alla regina cosa devono fare se vogliono mettere Egon sul trono. Ma anche qui da Eliseth è stata completamente cambiata Eliseth, perché Eliseth è stata Eliseth a fare tutto il colpo di stato, a preparare ogni pediglia. Invece qui hanno fatto vedere un Eliseth più buono, un Eliseth che vuole salvare la vita a Rhaenyra, invece un Otto, che è lui il grande burazionale, è lui che vuole manovrare tutti quanti a suo favore. E così non sa cosa dire. E a questo punto prende la pallorotto, ordina al primo, al loro comandante, le guarderà, di prendere tutti i suoi soldati, andata da a Rochel Drah, che uccide Rhaenyra, e uccide Demley, e uccide tutti i suoi figli. A questo punto, gran signore, togliamoci il cappello davanti a Ser Aron Westerling, non a quella larva di Ser Criston Cole, ormai è un uomo senza palle, è un uomo senza palle, si toglie la sua cappa dorata, si toglie il suo mantello bianco e dice che lui è fedele solo a un re. E in questo momento, in questo concilio ristretto, non vede nessun re. Lascia il concilio ristretto, mentre i complottisti restano lì, cominciano a fare complotto. Sia Otto che Elisen vanno a trovare Aegon, ma Aegon non lo trovano. Aegon è sparito, non sanno dov'è, ed è andato nel fondo del pulci, perché, parliamoci chiaro, Aegon è un depravato, Aegon non è degno di sedersi sul trono di spade. Aegon sul trono di spade sarebbe solo un burattino nelle mani di Elisen o di suo padre, o di suo nonno Otto. Non è un uomo depravato, è un uomo che pensano a bere e andare a donne, non è un uomo che può sedersi, che è stato addestrato per sedersi sul trono di spade. E questo era un grande errore dei Verdi, in cui tutti questi anni pensavano di sfruttare il momento della morte di Elisen per mettere Aegon sul trono. Però non l'hanno adestato a questo scopo, che Aegon si ubriacava, Aegon andava a donne, Aegon violentava, era un manievo, era un depravato. Ma anche dobbiamo capire Aegon, perché Aegon, tutti dicevano che doveva essere lui sul trono di spade, lui doveva essere l'erede maschio, ma altrettanto vedeva che il padre neanche non lo guardava, il padre aveva sempre deciso che sedersi sul trono di spade doveva essere Renira, come aveva deciso tanto tempo prima. Allora a questo punto siamo 8 che Elisen mandi i suoi uomini migliori, 8 manda i fratelli gemelli Erich e Arich a trovare Daemon, i fratelli Erich Arich hanno sempre giurato fedeltà a Revisen e sono stati sempre fedeli e addirittura Erich o Arich, non mi ricordo esattamente tutto, era la guardia privata di Aegon. Altrettanto fa Elisen che manda Sir Criston Cole a cercare a cercare Aegon ad approdo del Re e nel fondo delle pulci e con lui va il Prince Edmund che gli dice tu non sai dove deve andare, non sai la depravazione di Aegon, solo io ti posso portare dove lui può andare, soprattutto essendo che tu sei puro, sei un'anima buona, con tutto il rispetto, se il Criston Cole un'anima buona è un povero depravato, è una larva, non è la larva bianca, lui è proprio una larva di essere umano, è un omuncolo, è un nessuno, un nessuno che è una persona rancorosa, apposta che Rhaenyra l'ha rifiutato per Rhaenyra, scusate il termine, è stato solo una botta e via, per lui questo l'ha distrutto. Intanto si muove anche una larva bianca che comincia a tramare i suoi figli, mentre gli uomini vanno a cercare, gli uomini fidati 8, gli uomini fidati di Elisen vanno a cercare di aiutare tutti, di trovare Aegon, i suoi figli, vengono rinchiusi tutte le persone che sono al castello, sono nel castello rosso, i servi vengono portati nelle celle, vengono rinchiusi, questo è stato un piano di Lord Laris Strong, che rinchiude tutti i servi, e anche viene rinchiusa la principessa Rhaenyra, la principessa che non fu, la regina che non fu, viene chiusa nella sua stanza, nota quello che sta succedendo e capisce che il re Visenys è morto e loro stanno preparando un colpo di stato. Nel frattempo Otto fa andare tutti i nobili che erano a giurare al nuovo re, che devono rinunciare al vecchio giuramento fatto a Rhaenyra e chi non giura viene ucciso. E in questo momento Otto, io non capisco come fa a uccidere dei Lord senza avere conseguenze. Se il Cristo colo uccide un Lord, ne uccide due, fa pugni con un altro della guardia reale e non gli viene fatto niente. Se Otto Tatawe sta uccidendo Lord che non giurano fedeltà a Aegon, secondo voi quando poi i parenti di quelle persone che lui sta uccidendo perché non hanno giurato fedeltà a Aegon si possono mettere con lui? No! E invece cominciano a fare il complotto, mandano i corfi per ogni regno per riuscire a vedere quante famiglie sono fedele a loro, mentre Rhaenyra, mentre Rhaenyra va dalla principessa scena fu a Rhaenyra e comincia a parlare e dice a parole schiette, mio marito non era degno di fare un re perché mio marito è una persona buona, mio marito voleva stare in campagna a scrivere, a leggere, a imparare la storia. Tu dovevi stare seduta sul trono di spade. Qua Rhaenyra dice, non mi aspettavo mai queste parole, per altrettanto ti dà una domanda e gli dice, tu non sogni di sedere sul trono di spade? Prima sei dietro a tuo marito, dopo sei dietro a tuo padre. prendi ordine sempre da un uomo e ora prendi ordine da tuo figlio. Il tuo sogno di sedere sul trono di spade non ce l'hai. Questo è un discorso abbastanza ampio, abbastanza conciso, cioè due persone che si guardano, due donne e in questo House of the Dragon, in questa serie, la donna è la donna dominante, è la donna la parte più forte di tutta la serie. Sia Elisd che Rhaenyra oggi, in questo episodio, stanno dando il meglio di loro. Una gli dice che il marito non era degno di sedere sul trono e doveva essere lei a sederti. L'altra gli dice, tu non sogni di sederti tu sul trono di spade. O devi stare sempre dietro, prima a tuo marito, poi a tuo padre, poi a tuo figlio. E qui c'è il famoso discorso che tutti noi aspettavamo, quando Elis va a parlare con Otto. Gli dice che in tutti questi anni lei è stata solo una marionetta nelle mani di suo padre. E' stata lui a buttare nel braccio delle miserie. Lei non voleva. Lei voleva un'altra vita. Invece, lui, lui l'ha costretta a sposare il re. Lui l'ha manovrata. E lui dice, io ti ho manovrato per diventarti la regina di tutto questo, di Westeron. Io ti ho manovrato o volevi tu. Altrettanto, io, 18, ho fatto tutto questo per fare sedere sul trono Egon. Il problema è questo, da capire. Se Elisant è troppo ingenua o Otto è troppo furbo. Perché Elisant vorrebbe che Rhaenyra si inginocchiasse a Egon, giurasse fedeltà a Egon. Ma secondo voi, Rhaenyra si seguirebbe mai fedeltà a Egon, quando sa esattamente che suo padre l'ha disegnato come suo erede. Come suo erede, nel frattempo, Otto, in tutti questi anni, non so se è stato mai davvero un amico di Re Viserys, perché ha sempre complottato contro di lui. Avevamo il dubbio che aveva ucciso il padre di Viserys per diventare primo cavaliere di legge che è Eris, il conciliatore, e dopo è diventato primo cavaliere di Re Viserys, il pacifico. Ma in tutto questo, Otto è stato il vero grande burattinaio. In tanti i gemelli Erich e Arich vanno a trovare Egon, tutti arrivano nel fondo delle pulce dove arrivano in una zona dove dei ragazzi orfani che vengono, li matano le unghie, non li fanno mangiare i denti, gli allungano le unghie. Questo è uno combattere fino alla morte, per la gioia, per i soldi, per le scommesse. E qui sia Egon che Erich cominciano ad avere dubbi. Questi due parlano. Mentre Erich, a questo punto, comincia a non approvare l'ascesa al trono di Erich, perché vede ad un certo punto che Erich ha lasciato dei figli, dei figli altri. Cioè, in quel momento, in quel posto, c'è un'erede al trono, perché se Egon si dovrebbe sedere sul trono, c'è un figlio illegittimo e capisce Erich che Egon non è adatto a sedere sul trono. Mentre una ragazza li trova e dice che lei sa dove è Egon, però vuole parlare col primo cavaliere. Soprattutto vuole dei soldi che le ha mandato dall'acqua bianca. A quel punto, intanto, Sir Criston e Edmund girano, arrivano in un bordello dove Egon è andato più forte, dove anche qui Edmund perde la verginità, perché vediamo che la maîtresse lo riconosce. E qui Edmund fa capire che lui vorrebbe essere lui sul trono di spade, perché lui studia filosofia, lui studia storia, lui studia matematica, lui combatte, soprattutto lui possiede il drago più grande di tutti. E alla fine sarebbe lui il re migliore, secondo me, se non fosse così bastardo, se non fosse così cattivo. Fra Rhaenyra e Egon il migliore sarebbe Edmund, perché è il vero combattente. Edmund sarebbe il demon più giovane. Ma essendo che è un consatico, essendo che è proprio cattivo dentro, essendo che è un rancoroso, come Sir Criston Cole, cioè è l'allievo di Sir Criston Cole, e lui è rancoroso, lui è rancoroso nel fatto che Egon è lui l'erede e non lui, cosa che tutti pensano che il migliore fosse Edmund. Qui non lo trovano, mentre camminano nel fondo delle pulci, vediamo che vedono Otto, il primo cavallero Otto con Eric e Eric, insieme a loro viene la larva bianca, che non è altro che miseria, cioè la vecchia amante di Demone, e lui dice, la larva bianca sei tu? Cioè lui conosce la larva bianca, però non sa chi sia la larva bianca. Ed è stato preso nel concepire che la larva bianca è il misterio. Qui il misterio dice, io so dov'è Egon, ma voglio i soldi, viene pagato soprattutto voglio che i combattimenti fra orfani, nel fondo delle pulci finiscono, perché non è giusto che degli orfani vengano sostatti in questo modo. Otto dice, va bene, soprattutto Miss Aria gli dice, ricordati se Egon si siede sul trono, perché te l'ho concesso io, se non era per me, Egon a quest'ora era morto. A qual punto arrivano, vanno i gemelli, Eric e Eric, a prendere Egon nel tempio, sotto un tavolo, e qui Egon dice che lui non vuole diventare re, lui vuole andarsene, ma Eric dice, tu qui ti ho mandato, tuo nonno mi ha mandato, io ti porto fino a casa di tuo nonno, Eric. E a questo punto si arrivano fuori, dove ad aspettarli c'è Sir Criston Cole e Edmund, Sir Criston Cole e Eric e Eric combattono, mentre Eric guarda tutto da sopra il tempio. Alla fine Egon riesce a scappare, però Edmund lo ferma, cerca quasi di ucciderlo, ma lui dice, lasciami andare che me ne andrò nelle città libere, che io non voglio diventare re, non è il mio sogno diventare re. 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 A questo punto però Edmund viene fermata Sir Criston Cole, che dice che non vuole, lo stava quasi per uccidere, però se il Criston Cole lo ferma, Eric resta ammobile perché l'altro suo gemello l'ha lasciato solo. da suo fratello Eric e viene portato da sua mamma, Elisabeth. Elisabeth va da suo padre e dice che suo figlio sarà conorato domani mattina con la corona del Diego il compostatore e con la spada fuoco nero e soprattutto farà quello che dirà lei. Lui non conterà più niente. Intanto si prepara la celebrazione di tutto quanto mentre Eric va a liberare Renis dalla prigionia di casa sua nella sua stanza e dice che lui non può stare fermo con questo colpo di stato e ha deciso di aiutare Renis. Così Renis prendendo il suo drago può andare ad avvisare Renira. Nel frattempo vediamo che ha nascosto qualcosa fra le mani e se ne scappano da Prodo del Re, se ne vanno ed arrivano fino a Prodo del Re. Escono da Castello ed escono sempre nel fondo del Re. Ormai oggi in questa puntata il fondo delle pulce è la parte principale. Siamo la mattina presto dove tutta la popolazione viene portata dentro il tempio sotto la fossa del drago, mentre con la carrozza viene portata Egon con sua mamma. e qui Egon dice io non ho voluto tutto, io non ho voluto io questo. Ho fatto ogni cosa che mi hai chiesto con tutte le mie forze, ma non bastava né per te né per mio padre. Mio padre non avrebbe mai voluto che io sedesse sul trono di spazi, perché mio padre da quando è vivo non mi ha mai detto che ero io l'erede. Questo lo stai dicendo tu. invece Egon dice non è vero, il tuo padre è un punto di morte e mi ha detto questo. E gli fa vedere la daga di acciaio di valiglia che era di Revi Seris e qui come uno stupido ci casca. Con tutto il rispetto, se tu credi che tuo padre non ti abbia mai voluto farti sedere sul trono di spazi, solo perché vedi la daga di acciaio di valiglia, dice ah mio padre mi ha voluto, ma allora sei stupido davvero. Allora sei stupido davvero. Il tuo padre è morto, la daga di acciaio di valiglia viene presa da tua madre e ti viene darsa. Mentre tutto il popolo viene portato al Tempio e qui viene spinta anche Remis. Per il resto si accorge, si accorge che lei viene, che l'incoronazione viene fatta sul Tempio e sulla Fossa del Drago. Cioè il suo drago quel momento è nascosto nella Fossa del Drago. Ma la parte più importante, che prima dell'incoronazione, durante la notte, Laris Strong, Ser Laris Strong, prima appoggia il padre, Otto Taitauer, poi appoggia la regina, cioè dice vedi che tuo padre ti ha superato, stava prendendo Egon, perché nel castello ci sono tante spie. Tutte queste spie vengono, hanno aiutato tuo padre. E una di queste è la tua serva, la tua dama di compagnia Taglia. E l'unica cosa che viene fatta, essendo che le spie ci sono tante, e io non le conosco tutte, però conosco la loro aperegina, vuole, bisogna tagliare la testa. Qui, a un certo punto, vediamo che Ellison si toglie le scarpe e appoggia i piedi sul tavolino. Poi si toglie i calzini, si gira e appoggia i piedi sul tavolino. A un certo punto vediamo che l'Ars Strong è un faticista dei piedi, fa atto scena in un luogo pubblico, avete capito cosa sta facendo, e fa tipo una violenza contro la regina, la regina che deve stare zitta. e qui vediamo la scena di notte che il castello, la casa della larva bianca di Miseria prende fuoco, e come è successo con il suo fratello Edward Strong e il suo padre Lord Lennon Strong, anche qui prende fuoco. La regina per l'ennesima volta, a noi non penso che è una stupida, che non sa i metodi di Lennon Strong, ha ucciso suo padre e suo fratello, ha fatto la finta tonta, ora altrettanto, però qui non sappiamo, non vediamo né cadavere né niente, vediamo solo che la casa dove stava la larva bianca prende fuoco, però non sappiamo se qualcuno è morto. Questa scena non viene vista, forse avremmo notizie nell'ultimo episodio, intanto tutto il popolo è nel castello, nel tempio sopra la fossa del drago. Otto Tatawel dice, annuncia la morte di Levi Semi, il Pacifico è morto, è un giorno triste, per oggi è un giorno bello, perché viene incoronato il suo nuovo erede, Egon secondo del suo nome, vediamo tutti i soldati di approdo del re, soldati della guardia, tutti fanno una via e passa Egon, ogni volta con le spade alzate, ogni volta che passa Egon le spade si abbassano, arriva su fino all'altare. Qui il gran sacerdoto lo incorona con l'odio sacro e la corona viene messa in testa dal nuovo lord comandante. Il nuovo lord comandante, niente di poco, è il piccolo uomo, l'uomo senza divinità, Sir Christian Cole, che è stato nominato dalla regina Elisente Tower come primo comandante, come guardia reale, il comandante della guardia reale, viene incoronorato, Egon come un folle, si gira, prima guarda suo fratello che gli abbassa la testa, poi suo mare che gli abbassa la testa, poi Otto che gli abbassa la testa, poi Egon che gli abbassa la testa, poi Sir Christian Cole che gli abbassa la testa ad un certo punto. Si gira verso il popolo che ormai inclama Egon, 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 e comincia ad usare la spada, la spada fuoco nero, come segno di vittoria. Egon è contento che suo figlio sia seduto sul crono di spada, e Otto altrettanto è contento che sono usciti ad anticipare la regina principessa Rhaenyra, ma ad un certo punto si sente un rumore, uno strano rumore, il pavimento crolla e da sottoterra punta il drago di Rhaenyra, di Rhaenyra, il drago come si chiama, non mi ricordo comunque, come si chiama, non mi ricordo comunque, regina rossa, regina di fuoco, regina rossa, e qui comincia a far cadere tutto il pavimento, tanti civili muoiono, e lei ha ingroffo al suo cavallo, guarda tutti i complottisti, Edmund, Em, Anna, la prima figlia di Elysind, Otto, il primo cavallero, se Criston Cole, il drago Melissa, la guarda, essendo che Elysind ti ha detto quando avrei deciso, suona la campana, lei guarda a un certo punto, fa gridare, fa buttare un urlo al drago, mentre Elysind si mette davanti al figlio a proteggere il figlio, scusate questa scena, poi la parleremo, se lei sputta fuoco, tu ti metti davanti al figlio, che fai? Ma invece Renzi non sputta, non fa lanciare fuoco al suo drago e vola via, se ne va, va verso Roccia del Drago, finisce così l'episodio, comincia la guerra civile fra i Targani, come avevamo detto, la dinastia del Drago può essere distrutta dal Drago stesso, in questo momento esatto, comincia la guerra, il colpo di stato della famiglia Targaryen. Nel prossimo episodio vedremo la reazione dei neri, oggi c'è stato il concilio dei verdi, è stato incoronato Egon secondo il suo nome, primo degli Andalucosi e tutto, e così via. Ci sono alcuni dubbi, il primo punto è che se Cristo ancora può uccidere tutti i lordi possibili e immaginabili, può uccidere tutti i lordi possibili e immaginabili e non viene fatto mai niente. Secondo dubbio, c'è una guerra interna nei Verdi, nei Verdi c'è una guerra interna da suo padre, da Otto e da Tower, Elysse entra in Tower, perché sanno benissimo che Egon non è adatto a salire sul trono di spade. Però il loro problema qual è? Devo fare salire Devo sul trono per poi evitare che Rhaenyra siede sul trono. Secondo dubbio che mi viene, ma Elysse è davvero convinta che Rhaenyra non faccia scoppiare una guerra per prendere quello che è il suo diritto? Perché il trono di spade è suo di diritto, il trono di spade è suo. Suo padre era nominata erede al trono di spade e invece si è capito che il concilio distretto non è stato mai fedele al Revisen, è sempre stato contro i Targaryen, contro i Targaryen, come si chiamano loro. Ce l'ho sempre qui, non li riesco a trovare, i Targaryen contro i Targaryen. Perché? Sì che Egon è un Targaryen, però è un otto tower. Il problema è proprio questo. Il problema è proprio questo. Poi la scena finale. Come? Scena epica. Viene incoronato Egon. Egon alza il cielo o la spada nera. Fuoco nero. Il drago o regina nera rossa e scende, spacca il pavimento, arriva di fronte ai traditori. Tu basta che fai sputare fuoco e questa rivolta finisce. Il sangue non ce n'è. I civili non ne muoiono. È tanta, tanta tristezza. Perché, parliamoci chiaro, se c'è una guerra fra uomini, muoiono i uomini. Ma nel momento in cui, in guerra, ci sono i draghi. Portano solo fuoco e sangue. Invece lei non fa fuoco. Se ne va. E per me è una scena epica. Scena bellissima. Però, con tutto il rispetto, è una minchiata di scena. È una minchiata di scena. Perché non puoi fare una scena epica così e poi tu non sputti fuoco. Fai che arriva un altro drago e non dà il tempo di sputare fuoco. Non perché Ellison si mette avanti a Aegon e tu non fai sputare fuoco. Ehi dai. Ma davvero stiamo scherciando? Davvero? È stata l'unica scena che, secondo me, non coincide con tutta la barba della serie, della puntata. Perché è stata una puntata perfetta. Però questa scena qua, che è come che io, in questo momento, c'è un tiranno. Io ho la possibilità di ucciderlo e finire la guerra. Finire tanti morti, ma non faccio del giro di andare via. Per me questa scena sente senso. Poi vengono le scuse perché, essendo che lei è una Targaryen, lei non uccide altri Targaryen. Però altrettanto vedremo che, in altre circostanze, i Targaryen uccideranno Targaryen. Però quello che nessuno può immaginare che, con questa, inizia la rivolta, la danza dei draghi, soprattutto, in questo momento, sta per finire l'anestia del drago. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace. Andate nel mio canale, iscrivetevi. Tra l'altro campanile per il stagionato, su tutto. Andate, soprattutto, andate nel mio canale Instagram, nel mio canale Facebook, per il stagionato, su tutto. Se quello che ho detto vi piace, commentate. Dite, quello che ho detto è una cazzata, quello che non ho detto è una cazzata. Davide, quello che dici mi piace, quello che dici non mi piace. Davide, fai schifo nell'inglese e questo lo so. Questo lo so. E che vi dico, alla prossima. Ciao!